bene i lavori sono partiti abbiamo i primi plateau stiamo facendo le prime semine ma vi volevo presentare brevemente il mio semenzaio quest'anno è diverso da quelli che ho fatto gli anni scorsi cerco sempre di migliorare mi vengono nuove idee cerco di metterle in pratica e poi scarto quello che non mi serve e vi faccio vedere ciò che secondo me è utile magari mi può venire comodo però dopo la sigla vi faccio vedere un po il adavalco che ho fatto per imitare un po le tende di coltivazione vi lascio qui in immagine spero di averne una il prossimo anno e vi faccio vedere poi collegamenti elettrici sulla power station che è laggiù la vedete in penombra ma dopo ci avviciniamo all'illuminiamo vi faccio vedere bene tutto quanto ci vediamo dopo la sigla rieccoci sul canale bentornati a tutti sono orso allora questo è il mio semenzaio del 2024 rispetto a quello degli anni scorsi dove in fondo si vedeva il muro e i lati non c'era nulla ho messo questi tappetini isolanti riflettenti sono per i parchessi usano per rivestimenti quant'altro ne avevo in più in casa e quindi l'ho utilizzato così ho fatto un'impalcatura di legno semplicemente fissata con delle viti e poi vedete tutto anche sul soffitto ho messo questo materiale termoriflettente quindi l'idea è di replicare un po come vi dicevo prima l'effetto delle tende da coltivazione secondo me quelle sono un'idea interessante l'anno prossimo spero di acquistarne una e cominciare a coltivare anche lì dentro a differenza di quelle che richiedono anche una ventilazione forzata qui ancora non ho di questi problemi anche perché come vi avevo detto gli scorsi anni le lampade led che utilizzo queste dell'agnello hanno una ventola di raffreddamento dei led che smuovono leggermente l'aria un po in tutta la superficie e quindi minimizzano il problema delle mousse potrei avere sopra i letti di semina allora questo è l'inizio del mio semenzaio ho già il tappetino riscaldante con i peperoni in funzione da sette giorni oggi ho messo il primo cavo riscaldante e lì se vedete c'è lo spazio per il secondo cavetto riscaldante quindi vado un po a step non faccio tutto insieme anche perché è ancora presto per certe coltivazioni mi avvicino vi faccio vedere i due termostati e poi ci spostiamo sulla power station e vi spiego un po la logica di funzionamento che potete replicare anche voi a casa anche se non avete a power station ovviamente lo potete fare con la corrente di rete due termostati uno singolo per il tappetino riscaldante questo nasce e finisce così non c'è altro da fare alimenta soltanto il tappetino questo invece è nel cavetto riscaldante questo è un termostato solo e può ovviamente pilotare più tappetini nel momento in cui ne avrò due metto semplicemente una tripla in questo caso ovviamente ne ho uno soltanto l'ho collegato direttamente impostata a 22 gradi tra un po lo regolo meglio ne metto 21 perché parto per la prima volta in vita mia con le semine di rosmarino e di salvia non li ho mai seminati in vita mia c'è sempre da imparare e loro germinano intorno ai 20 21 gradi quindi ci sarà da divertirsi anche con quello ora mi sposto un attimino e vi faccio vedere tutta la logica di funzionamento dell'impianto elettrico vedrete molti fili allora parto con la power station questa avevo provato lo scorso anno è un kilowatt non è tantissimo ma è quanto mi basta per tirare avanti una notte vi spiego il perché vi faccio vedere i collegamenti qui troviamo due ciabatte con due programmatori ben distinti questa ciabatta è collegata direttamente alla presa di corrente di casa su questo programmatore ho collegato la power station quindi dalle 8 del mattino alle 18 circa che è l'arco della giornata in cui c'è il sole avendo io pannelli solari sul tetto cosa succede alle 8 del mattino parte la ricarica della power station e contemporaneamente comincia a alimentare le resistenze elettriche e le luci quindi la power station si ricarica e tutte le mie utenze del semenzaio funzionano con i pannelli solari alle 18 si spegne la ricarica della power station e comincia la sua carica interna la sua batteria questo fino alle 8 del mattino dopo quindi lei mi alimenta le sole resistenze elettriche in questo caso il tappetino e un cavo riscaldante su quest'altro programmatore sono collegate le luci anche questi collegati direttamente alla corrente di casa quindi dal mattino alle 8 fino alle 24 io alimento le luci del semenzaio con la rete di casa vada a sé che dalle 18 alle 24 pago la corrente non ho i pannelli solari perché non c'è più luce ma sono poche ore per pochi watt quindi li ho messi in conto e va bene così questa ciabatta qui è collegata alla power station quindi tutto ciò che esce fuori da qua io lo prelevo dalla power station quindi qui vedete sia il tappetino messo qui su una tripla con interruttore che il termostato con il cavo riscaldante ecco il cavo riscaldante e il tappetino devono essere collegati sempre h24 quindi o prelevo dalla corrente di casa o prelevo dalla power station io la corrente a loro le la devo dare comunque e sono quelli che maggiormente assorbono corrente ecco perché io questo kilowatt lo conservo per loro per la notte perché va via veramente molta corrente e in questo modo qui riesco ad ammortizzare un po i costi anche se questa per fortuna la corrente costa il giusto non come lo scorso anno che tra l'altro non ce l'avevo e abbiamo pagato tutti uno sproposito infatti l'anno scorso mi sa che non ho fatto un buon affare col semenzaio va bene detto questo questo è il collegamento elettrico ora lo vedete così incasinato in realtà è messo in un posto dove non fa fastidio ho dovuto metterlo qua soltanto per le riprese sono anni che utilizzo questo sistema ovviamente non con la power station prima era tutto collegato alla rete di casa con una ciabatta apposita bene ci tenevo a presentarvi il mio semenzaio mano a mano che avrò degli aggiornamenti pubblicherò nuovi video saranno video anche molto corti però mi servono per farvi vedere un po la gestione nei minimi particolari magari certe cose non si vedono neanche tanto online perché si danno per scontato a me piace scendere nel particolare ragionare sulle cose cercare di farvi vedere un po come funziona e cercare di invogliarvi il più possibile a farvi le vostre piantine perché oltre ad essere un'esperienza bellissima si impara molto e si risparmia tantissimo nonostante i costi di corrente elettrica che tra l'altro ho calcolato a spanne per un semenzaio siamo intorno ai 60 100 euro per tre mesi 20 30 euro al mese per circa tre mesi se contiamo di un migliaio di piantine da acquistare in vivaio forse questi 80 euro ce li siamo ripagati almeno almeno tre quattro volte grazie a tutti per essere stati con me lasciate un like iscrivetevi al canale condividete ne approfitto se dovete acquistare i semi non è un video sponsorizzato ovviamente li ho acquistati anch'io questi sono lo scorso anno ora mi arrivano quelli nuovi sul mondo dei semi il mondo dei semi.it trovate semi di qualità anche biologici e mi sono sempre trovato benissimo soprattutto per la qualità della confezione vedete alla chiusura che si può aprire e chiudere diventa ermetica quindi da un anno all'altro si conservano i semi in modo idoneo se vi interessa c'è un codice sconto al 10 per cento non ci guadagna niente che voi acquistate o meno io non ci guadagno nulla quindi se vi fa il piacere potete risparmiare qualche soldo e acquistare semi di qualità vi auguro una buona giornata ci vediamo la settimana prossima